Entro l'anno dovrebbe essere chiuso il cantiere di Palazzo Margherita, sede storica della municipalità. Questo è quello che ipotizzano i tecnici ascoltati nella quinta commissione comunale dal presidente Giustino Masciocco e dagli altri commissari, dopo l'interrogazione del consigliere Bontempo sulla sicurezza della torre civica, dalla quale tempo fa sono caduti dei calcinacci e dove ora si sta montando un ponteggio per fare gli interventi in sicurezza e rendere sicura al tempo stesso anche l'area adiacente chiusa da tempo. In particolare sulla questione sono stati sentiti il Ruppo Mario Di Gregorio, il direttore dei lavori Marta Fiorelli e Roberto Evangelisti, direttore del settore ricostruzione del comune. Per quanto riguarda la torre verrà ultimata entro dicembre così come i lavori del Palazzo Margherita, ad oggi si sta cercando di mettere non tanto in sicurezza ma mettere i ponteggi intorno alla torre per evitare che cadano ancora calcinacci e pronti per essere utilizzati i ponteggi per la ristrutturazione della torre. Dopodiché ci saranno 60 giorni di tempo, quindi entro febbraio 2022 il tempo per fare il progetto di consoli per il collaudo e dopo sarà messo a disposizione dell'amministrazione comunale. Le strade adiacenti la torre, una volta che è finito il ponteggio, sarà cura dell'amministrazione comunale decidere se riaprirle o meno. Ne esce una sorta di cronoprogramma. Salvo imprevisti, a breve verrà approvata una variante in corso d'opera, poi ci sarà il collaudo entro 60 giorni, prima di restituire il Palazzo al Comune. La variante costerà il 27% dell'importo previsto inizialmente, quasi 12 milioni, e sarà coperto dai ribassi d'asta. Questa variante prevede più consolidamenti, la sostituzione dell'impianto a sonde geotermiche con quello tradizionale e l'adeguamento degli impianti, soprattutto quello elettrico. La variante in corso d'opera è necessaria perché negli anni sono sopraggiunti diversi problemi per quest'opera pubblica di fondamentale importanza per la città, a partire dalle interferenze con i sottoservizi, fino ad arrivare alle prescrizioni della sovrintendenza sui lavori di fondazione e poi c'è stato il progressivo danneggiamento della torre civica e anche per questi lavori ci sono delle prescrizioni precise da parte della sovrintendenza.